Grazie a tutti. Grazie al sindaco di Andria, Giovanna Bruno. Bentornato. Grazie Roberto per l'invito. Allora, cerchiamo di riprendere i discorsi interrotti l'ultima volta che è stato nostro ospite e voglio cominciare dalle cose piacevoli, una volta tanti in genere, si comincia da quelle spiacevoli. Quando lei è stato nostro ospite, quando poi abbiamo fatto una trasmissione ad hoc sul bilancio, quando avete approvato il bilancio di previsione, il tuo nostro ospite e l'assessore, i consiglieri di maggioranza dissero chiaramente che nel bilancio di quest'anno avevate deciso di puntare su una forte promozione della città. E che quindi molte poste importanti del bilancio erano state dedicate proprio alla promozione attraverso le manifestazioni estive, la disfida di barretta, il programma natalizio, la festa patronale. C'è tutto ciò che poteva fare notizia in loco e non soltanto sul nostro territorio e che avrebbe comunque portato una grande affluenza alla città. Ora, se andiamo sui social network, tutti i programmi di tutte le città, ci sono i commenti favorevoli, contrari, non… Però nel complesso è innegabile che il programma dell'estate barrettana è un programma importante, è un programma importante che si sta svolgendo. Io poi qualche perplessità ce l'ho su determinati utilizzi, però sta avendo tutto un grande successo. Ora, qual è l'aspetto negativo? È che quando si promuove la città, quando si è fatto il Jova Beach, c'era il fatto, cioè il concerto, e poi c'era tutta un'organizzazione per poter accogliere tutta una situazione collaterale. Quando si promuove una città, quando si organizzano degli eventi anche importanti, qualcuno di rilevanza nazionale, poi il resto della città deve essere all'altezza. E su questo le critiche sono forti, perché dice non è così. Ma noi, l'amministrazione comunale, stiamo mantenendo l'impegno assunto con l'approvazione del bilancio di previsione. Le critiche potremmo fare meglio, certamente sì, ma noi credo che quello che stiamo facendo sta dando un riscontro positivo presso tutti i cittadini e voglio rassicurarli che ogni evento è soggetto ad un piano di sicurezza e ad un'approvazione del Commissione di Pubblico Spettacolo che deve rispettare i criteri di sicurezza della partecipazione pubblica. Quindi qualche cittadino si lamenta di questa rigidità legata all'evento perché condizionato in positivo, secondo me, dal piano di sicurezza. Certo, faccio un esempio. Il piano di sicurezza prevede, per gli eventi al castello, che l'accesso pedonale alla Lega Navale e dalla Piazza Marina, da Via Cristoforo Colombo, sia interdetto agli automobili e anche ai pedoni. Ma questo viene fatto perché il piano di sicurezza prevede che là quella sia un'area di sgombero e quindi è vietato passare in quella strada. Questo determina ovviamente il disappunto dei cittadini che si vedono negato un diritto al percorso pedonale o automobilistico in quell'area. Ma quella è legata ad un piano di sicurezza. Un piano di sicurezza che viene autorizzato dalla Questura e al quale noi dobbiamo corrispondere in maniera seria perché ove ci fosse qualche incidente o qualche, diciamo, anche incidente mortale perché accade di questi, noi saremmo responsabili. Quindi questo è il motivo per il quale alcune volte noi siamo rigidi nella organizzazione di questi eventi perché dobbiamo tutelare la pubblica incolumità. A settembre c'è la disfida. Adesso c'è un finanziamento regionale che è diventato praticamente fisso. Per tre anni, ma non è solo quello. È importante però sapere con certezza che io posso contare su soldi che arriveranno con sicurezza e non vediamo se ci approvano. Noi abbiamo messo in bilancio, abbiamo appostato in bilancio una cifra adeguata allo svolgimento della manifestazione. È ovvio che se arrivano altri soldi, aspettiamo anche i soldi dallo Stato, dal Ministero dei Bini Culturali e dalla Regione, se arrivano altri soldi utilizzeremo quei soldi e gli altri fondi li utilizzeremo per altre attività utili alla città. Quindi noi ci siamo messi in sicurezza per quanto riguarda l'evento. Poi aspettiamo... Ma contate di fare il certame quest'anno? Sì, dobbiamo fare il certame. La proposta progettuale è quella, ci stiamo lavorando, non è cosa di poco conto organizzare un evento del genere, sia in termini di sicurezza, sia in termini di proposte di azione. stiamo lavorando su questo, dobbiamo decidere il regista, dobbiamo decidere quale tono dobbiamo dare alla manifestazione, che progetto di evento abbiamo, perché potrebbe essere monotono lo stesso progetto, diciamo... Il limite della disfida è che si sa chi vince. Sì, ma anche dappertutto, anche in alto, per esempio a Gubbio si sa chi vince. A Siena no, questo diciamo. A Siena non ci sa, ma là siamo all'epoca. Però, diciamo, intendiamo farlo perché la città di Barletta si identifica nella disfida di Barletta. È un brand che noi vogliamo esportare in tutto il mondo, così come abbiamo fatto anche con Denitis. Va bene. Allora, questa intervista la vorrei fare, diciamo, leggermente diversa dal solito. In genere seguo un cannovaccio, diciamo, che dura... Senza rete. Invece, no, voglio proprio fare quiz, come un quiz, domanda, risposta, eccetera, eccetera, di cose che si vogliono fare, di cui si parla, di cui si è parlato, eccetera, eccetera. Allora, voglio cominciare. Il famoso parcheggio contestato, ancora ieri leggevamo... Dell'Eni. Dell'Eni. Che dobbiamo fare? Allora, Ettore Mazzola è il mio amico. Anche mio. Ieri penso che abbia un pochino esagerato. Eh, ma non è solo lui che sostiene. Sì, noi dobbiamo metterci d'accordo. Vogliamo i parcheggi perché mancano nella città o non li vogliamo? Vogliamo limitare il traffico... Vogliamo dare la possibilità agli automobilisti di avere, di poter parcheggiare? Quel progetto del parcheggio Eni è un progetto che libera il quartiere di Santa Maria dalla presenza di automobili. Quando si dice il problema ambientale? Il problema ambientale è stato ampiamente risolto da una conferenza di servizio regionale che ha proposto e ha prescritto ogni possibile sicurezza pubblica. Stiamo parlando di un'area privata? Ma là si è fatto un'analisi del terreno? Assolutamente sì. Si è fatto un'analisi di rischio. E quindi non c'è necessità di bonifica? Non c'è un'analisi di rischio. È stata fatta la caratterizzazione... E allora quando si dice si coprono i veleni con l'asfalto... Posso dire una cosa? Non me ne voglia, ma ieri ha detto una supercazzola il nostro amico Ettore. Ma lei, il film Amici miei, almeno l'hai visto? Sì, sì, sì. Faccio riferimento proprio a quella frase. Per cui fare allarmismo pubblico non serve a nulla. Perché tutto è... Quindi il parcheggio si farà? E quando si fa? Allora, ancora una volta continuo a dire che non c'è una proposta, oggi al Comune di Barletta non è pervenuta alcuna proposta da parte di Eni circa la realizzazione di un parcheggio. Io continuo a dire che nel momento in cui Eni depositerà una proposta di parcheggio i cittadini ne saranno informati e ne discuteremo. Però io penso che il parcheggio là sia utile a tutti. E se questa proposta non arriva mai, l'area sta così per sempre? Siamo parlando di un'area privata dove non si può fare nulla di diverso rispetto al piano regolatore. Quindi non è che questi qua vengono domani mattina e vorranno costruire palazzi. perché la destinazione d'uso non è quella di palazzi, non è quella di uffici, ma è di verde pubblico attrezzato o di altri servizi che tra l'altro la Regione ha già confermato di poter realizzare. Non distante. Quell'area dove doveva sorgere un supermercato vicino al fossato del castello, la città che insorge, eccetera, eccetera, non si fa più, si fa uno scambio di aree. Risultato? Cominciano a passare gli anni? No, non tanti anni, ma sta svolgendo un lavoro egregio, devo riconoscerlo pubblicamente, l'assessore all'urbanistica, l'avvocato Grimaldi, e stiamo portando a compimento questo passaggio di aree e in quell'area dove prima c'era il supermercato per un anfiteatro finanziato con i PNRR, dove abbiamo già avuto l'autorizzazione della sovrintendenza, dove abbiamo già avuto i soldi, dove abbiamo già il progetto, siamo in procinto di andare a cantiere. Allora, questa che è una buona notizia, però introduce una cosa che sta sollevando parecchie perplessità. Mi riferisco, noi abbiamo fatto due trasmissioni sul Pug, tu ne sarai informato, perché abbiamo deciso di seguire il cronoprogramma indicato dall'assessore, insomma di fare degli aggiornamenti informare i cittadini. C'è quell'area che va dalla 167 alla 16bis, che è terreno agricolo e che nel nuovo Pug è previsto possa diventare in parte edificabile, nel senso che è questo solleva delle perplessità perché non si capisce perché si debba ampliare il terreno edificabile considerando che abbiamo costruito 6.400 appartamenti nella nuova 167, c'è tutto un recupero, c'è la barretta, c'è il mercato. Allora, la correzione che ha fatto l'assessore dice no, non è che quella prendeva e diventa tutto suolo edificabile, quello verrà utilizzato per gli scambi di cubature, proprio come nel caso del supermercato, perché io all'allito gli dico senti, tu te ne vai da qua, io queste cubature te le do, dove te le do? Te le do in quest'area agricola, però io so benissimo, ne conosco i nomi che da molti anni, gran parte dei costruttori di Barletta hanno acquistato quelle aree agricole in attesa che diventano edificabili, quindi su questo diciamo bisogna camminare sulle uova. No, no, sono operazioni urbanistiche che sono consentite dalla legge e che portano benefici economici alla città, cioè trasformare quel suono agricolo in… Non solo questo, ma dare decoro a quell'area, toglierla dalla sporcizia e dall'abbandono dei rifiuti, pensare ad una qualità dell'abitare migliore e ad una circolazione migliore della popolazione residente, quindi non è che il Comune domani mattina si alza e fa l'accordo con il famoso costruttore e dice vabbè ti do il terreno agricolo, tutto passa attraverso un, uso questo termine, un rimborso alla città che porta benefici su pezzi di territorio in termini di servizi, in termini di miglioramento della qualità del vivere, quindi non è che sono operazioni che il Comune si alza mattina e se le inventa. Però può diventare anche parco urbano, diciamo. Però siccome il tutto confluirà nel Pug dove ogni cittadino ha il dovere, non soltanto il diritto, ha il dovere di fare osservazioni e di intervenire anche con proposte progettuali migliorative, purché non siano demagogiche, strumentali e contro, perché a Barletta esiste un problema, Barletta è sempre contro, contro. Io non voglio essere, io non sono contro, vorrei evitare che si fosse sbracatamente a favore. No, 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 io ho sempre detto che non faccio la guerra alla ricchezza, io faccio la guerra alla povertà, per cui se io ho dei benefici, dei vantaggi in termini economici, in termini del miglioramento del territorio, in termini di decoro, in termini di lavoro, in termini di opportunità di lavoro, in termini di risistemazione dell'aria, in termini di migliore accoglienza, perché non è bello che uno che scende dalla 16 bis in quell'aria trovi quegli spiazzi così degradati. Quindi la città va costruita anche con questi sacrifici, quando si possono fare in assoluta trasparenza, in assoluta pubblicità amministrativa. Resta che la cosa cozzerebbe con il consumo zero di territorio che viene evocato. Voglio ricordare che noi, questa amministrazione e la precedente mia amministrazione, non ha mai approvato una variante al piano regolatore. Se tu ricordi bene, questo piano regolatore veniva sempre violentato dalle varianti, noi non abbiamo mai approvato le varianti. Io non dico che le varianti sono sempre inutili, alcune varianti possono anche avere un'utilità pubblica. Tutto, pur che sia un'utilità pubblica, che poi uno si arricchisca, a me interessa poco. L'importante è che paghi le tasse. Abbiamo tutta una serie di proprietà comunali che sono chiuse in attesa di un intervento che non si sa come e quando avverrà, perché sono degli interventi molto costosi. Tant'è che quando c'è l'opportunità di acquisire nuovi beni, si va con i piedi di ipo e ombro, proprio perché l'acquisto è la più piccola cosa rispetto alla ristrutturazione. Perché Salerno quando comprò la distilleria, credo pagò 7 miliardi di lire, ma erano e fece bene, però per la ristrutturazione della distilleria vogliono 200 di miliardi di lire, per dire che è lo stesso discorso. Siamo intorno ai 40 milioni. Abbiamo comprato un appartamento, qualche, nella precedente consigliatura, quell'appartamento sul quale c'è il diritto di prelazione, sulla disfida, molti la videro come un dispetto a un ex assessore, ci fu tutta una polemica. Il fatto sta che per una cifra oltretutto modesta questo appartamento fu comprato. E così come temevano le Cassandre al momento, dopo che l'abbiamo comprato, come stava? Così sta, mi sembra. Dobbiamo farne qualcosa? Ho esaurito il presunto dispetto. No, no, quella fu un'antipatica situazione politica. La politica non fu, mi ci metto io dentro. Fu molto infantile. Fu molto infantile, sì, mi ci metto anch'io dentro. Abbiamo una proprietà che dobbiamo valorizzare. I progetti ci sono. Il problema è che ci sono tante di quelle priorità, ci sono tanti di quei soldi da dover spendere in termini di progetti, che questi piccoli interventi alcune volte vengono dimenticati. Dobbiamo ricordarci, voglio ricordare tutti i citati di Barletta, che noi stiamo lavorando sul PNRR, che non è cosa facile. E stiamo bene sul PNRR, nonostante la carenza gravissima di personale tecnico. E quello ci sta impegnando molto, ci sta impegnando non poco, perché un progetto per essere portato, per essere messo a terra il progetto, così come si dice. Ci vogliono un sacco di passaggi. E noi ci stiamo... Noi come progetti PNRR che cosa abbiamo? Noi abbiamo... Quest'anfiteatro che ha detto. La piscina, che abbiamo stato aggiudicato il progetto, e abbiamo anche l'impresa. Stiamo lavorando sul CCR, sul centro di raccolta che abbiamo appaltato a Barsa. Abbiamo i tre asili nido, siamo pronti per andare almeno con un asilo nido importante, gli altri due ci stanno. Abbiamo lo skate park, abbiamo tutti i progetti già presentati, sono già stati finanziati. Abbiamo la sfida del borgo, che sono 20 milioni di euro, tra i quali abbiamo previsto Sant'Andrea, 16 milioni di euro della chiesa di Sant'Andrea. All'interno di questo abbiamo anche il progetto d'Arsena, che si collega perfettamente all'altro progetto d'Arsena Pescatori, del quale non abbiamo perso i finanziamenti, ma abbiamo volutamente rinunciato al finanziamento per proporci con un progetto esecutivo l'anno prossimo. quindi non è stato facile. La chiesa di Sant'Andrea è di proprietà della Curia? No, è proprietà nostra. Ah, è proprietà del Comune di Barlessi. Stiamo ristrutturando, il progetto anche là è molto bello. I problemi sono successivi, saranno i problemi della gestione. Cosa dobbiamo fare una volta che abbiamo ristrutturato questi immobili è un altro grosso problema, perché il problema più importante per il Comune è la gestione. Comunque, sugli asilindri stiamo andando bene, sulla piscina abbiamo avuto il progetto. Sant'Andrea aveva, aveva, è Sant'Andrea così come Sant'Agostino, una presenza giovanile notevole che frequentava la chiesa e che garantirebbe, garantirebbe insieme naturalmente al parroco, diciamo, una gestione della chiesa e dell'area ristrutturata, secondo me in maniera sufficiente. Ma questo lo vedremo dopo. No, vabbè, era giusto una digressione la mia. No, no, lo vedremo dopo. Noi siamo perfettamente consapevoli che i problemi di gestione che passano attraverso una manifestazione di interesse pubblica, sono i veri problemi che tutti i Comuni hanno, perché quando il Comune non ce la farà mai a gestire quel bene. Io ho preso un impegno, sto prendendo un impegno pubblico, che è quello di riaprire alla fruizione pubblica l'orto botanico. È scandaloso che un cittadino di Barletta non abbia mai messo piede e non conosca l'orto botanico. Domani iniziano i lavori di caratterizzazione. Ma l'hanno messa l'acqua? Sì. Perché diciamo? Allora domani iniziano i lavori di caratterizzazione con un piano approvato dalla Regione. Domani c'è l'incontro Comune-Arpa per il piano di caratterizzazione dove saranno presi dei predievi del suolo. Là c'è una denuncia da parte di Gnoti e il magistrato dell'epoca autorizzò, riportò nella proprietà pubblica, dissequestrò l'aria a condizione, stiamo parlando di dieci anni fa a condizione che si procedesse ad un piano di caratterizzazione e di bonifica. Domani inizia il piano di caratterizzazione per la successiva bonifica. In questo caso il Comune di Barletta gestirà l'orto botanico, l'apertura dell'orto botanico. Così i città di Barletta sapranno che quello è un bellissimo luogo, spazio pubblico di formazione, di conservazione delle biodiversità botaniche, è una cosa straordinaria. Lo stiamo facendo su molte altre cose. Fermiamoci per un minuto, poi riprendiamo parlando delle panchine. Le panchine in generale, perché anche sulla piazza del vecchio ospedale sono state rimosse le panchine. Lo faremo tra un minuto di pubblicità. Siamo tornati in studio per continuare la nostra intervista al dottor Mino Cannito, sindaco di Barletta. Ci eravamo lasciati parlando della volontà dell'amministrazione di aprire un orto botanico che non è mai stato aperto, doveva essere l'inaugurazione, fu annunciata durante la prima amministrazione Maffei. Poi mi dicono, io non sono tra quei Barlettani che tu citavi, che non è mai entrato nell'orto botanico. Mi dissero che si erano dimenticati l'acqua, dovendo innaffiare le piante. Il problema dell'orto botanico è la gestione. Abbiamo provato, hanno provato, non dirò la verità, hanno provato, no, il pozzo ci sta, hanno provato a fare manifestare il suo interesse. Adesso, considerato questo, lo gestiamo noi, l'orto botanico. Allora, quindi ci eravamo lasciati un orto botanico, però siccome, come dicevo, voglio gli argomenti senza necessari collegamenti l'uno con l'altro, parliamo delle panchine, perché sono state rimosse le panchine vicino Musti con proteste di cittadini. Lei personalmente una mattina, lei, tu, personalmente una mattina ti presentasti con Barsa e i vigili urbani a far segare le panchine della piazza del vecchio ospedale, perché c'erano stati degli episodi di violenza, servivano quelle panchine, erano diventate luogo di riunione di persone non molto raccomandabili, che però, diciamo, tolta la panchina, sono spostate sulle scale a 10 metri sulle scale d'ingresso del vecchio ospedale. Allora, non è che togliamo la panchina per impedire, non lo so, all'extracomunitario di dormirci. Allora, là si sono consumati degli eventi delituosi addirittura, i residenti erano tutti quanti impauriti per la presenza di aggregazioni umane, diciamo, non proprio rispettabili dell'ambiente e soprattutto delle ore notturne. Sia il parroco che è stato costretto anche a far ricorso all'intervento del prefetto per chiedere sicurezza in quel luogo, quindi noi abbiamo deciso, proprio per evitare questi assembramenti notturni che tanto danno, arrecano alla quiete pubblica, abbiamo deciso di non mettere panchine. I cittadini ci sono riconoscenti di questo fatto. Però se lo rendiamo vivibile, perché il malaffare tende, è come l'acqua che va alla pendenza, dove c'è il vuoto. Là è stata ammazzata una persona, di notte là c'erano bottiglie che volavano da tutte le parti, c'erano anche insulti, c'erano anche tentativi. Quella piazza, così come sta oggi, si può giocare 4-4 una partita di pallone, 5-5 sono troppi, 4-4. Dico, è difficile mettere due giostrine su quella piazza? No, no. Perché se ci metti delle giostrine e ci metti delle panchine per le mamme che portano, io vedo i parchi giochi sono veramente presi da salto. Cioè sono sempre insufficenti. Persino quello vicino al parco dell'umanità, che sta una cosa sola. La proposta non è, diciamo, non accoglibile. Dobbiamo ancora pensare che cosa fare, perché io personalmente, io sulle panchine sono d'accordo, ma nel momento in cui, nel momento in cui là si metteranno le panchine, succederà da capo il finimondo. Allora, però le giostrine le possiamo mettere, no? Le giostrine le possiamo mettere, prendo l'impegno di metterle, ma di notte le persone devono riposare, ed è un problema, la stessa cosa in via Musti. In via Musti è vero che sono state raccolte delle firme perché vogliono le panchine, adesso dirò qualche altra cosa. Ma è anche vero che ci sono dei cittadini che hanno fatto le firme perché non le vogliono e mi ringraziano perché di notte dormono. Tra l'altro, se è il problema delle panchine degli anziani, io voglio ricordare che io ho aperto il giardino di via Musti. Forse non tutti i cittadini lo sanno, ma là c'è un giardino alle spalle della scuola Musti, che è un giardino pubblico, dove ci stanno le panchine, dove le persone anziane possono andare a riposarsi e a stare, a vivere in relazione pacifica. E quindi nell'area verde. Che cos'è accaduto? È accaduto che dopo la caduta della prima amministrazione Cannito è andato il commissario e non se ne è saputo più nulla di questo giardino. Per cui gli anziani possono andare a stare in quel giardino che è un verde puro, posso anche guardare, ci posso prendere l'aria pulita, però sul fatto che abbia tolto le panchine è legato al fatto che ci sono state delle proteste da parte dei cittadini che hanno detto per piacere di farci dormire di notte. Però per far dormire di notte le persone, anche i controlli da parte delle forze dell'ordine dovrebbero essere sufficienti. È una resa continua, sindaco. Stai toccando un tasto dolente, molto dolente, che è all'ordine del giorno di tutti i sindaci della BAT. Ieri avete fatto questo incontro a Bari. Ieri abbiamo fatto questo capitato per l'ordine di sicurezza regionale, dove si è preso atto, dove ancora una volta il procuratore Nitti ha lanciato l'allarme, il grido di allarme e il grido di dolore sulla carenza di personale, che fa quello che può. Io non voglio caricare ulteriormente le forze dell'ordine di questo impegno notturno per atti vandalici, perché le forze dell'ordine devono pensare allo spaccio di droga, devono pensare al traffico di armi, devono pensare alla prostituzione, devono pensare alle estorsioni, devono pensare alle truffe. Certo, ma il controllo che avviene la notte, diciamo, con un passaggio costante in questi ruoli critici sarebbe un deterrente. Infatti noi il giorno 28 avremo l'incontro con il sottosegretario, con il viceministro all'interno Molteni, dove comunicheremo, chiederemo la presenza di forze dell'ordine sul territorio, perché un capoluogo non può stare soltanto con una pattuglia di notte. E' una cosa che ha sottolineato il procuratore Nitti, non so, è un fatto oggettivo. Ha detto che fu inviato al ministro dell'interno un documento sottoletto dal procuratore della Repubblica, dal prefetto e da tutti i sindaci del territorio che era stato letto la morte. Voglio dire che, voglio prendermi questo merito, perché ho parlato con i colleghi, con gli amici sindaci, ho detto che noi dobbiamo dare una mano al procuratore, dobbiamo fare un documento che è stato stilato da Bottaro e condiviso da tutti, ed è stato quel documento firmato, sottoscritto da tutti i sindaci che è andato al ministro dell'interno. Su quella storia probabilmente qualcosa lo otterremo. Allora, rapidamente, sindaco, sta per cominciare un nuovo campionato, Barletta ha preso lo schelotto, lo stadio come stava? Lo stadio, intanto noi abbiamo parlato con il presidente e io ho preso l'impegno che manterrò, di consentire l'abbonamento sulle gradinate. In questi giorni… Sempre con la firma… No, 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 stiamo lavorando per aumentare il numero degli spettatori, perché manca soltanto una cosa, manca l'antinfumo e l'antinfumo negli spogliatoi, la spesa prevista in tutto però, è di circa 80 mila Euro, i soldi ce li abbiamo, stanno lavorando per riottenere dai vigili del fuoco l'agibilità, abbiamo già avuto i primi incontri con i vigili del fuoco e stiamo arrivando alla definizione del progetto. Questo riaprirebbe tutto lo stadio? Riaprirebbe le gradinate, passeremo da 5 a 6 e 2, però l'obiettivo nostro è quello di farlo su 8 mila e due, in questa maniera apriremo tutto. E che ci vuole per riaprire tutto? Niente, che si facciano le… Solo questo? Solo questo, siccome si parla di dover rifare il piano… No, non dobbiamo omologare da capo lo stadio, perché siamo sempre in quella categoria, si tratta soltanto di riottenere l'agibilità sulla scorta del numero della presenza degli spettatori. Io ho rassicurato Mario Di Miccoli, presidente, che lui potrà fare, sebbene non abbiamo avuto problemi l'anno scorso a fare ordinanze, perché l'ordinanza non costa nulla farla, però se serve… Poi però se muore qualcuno… No, la responsabilità è la mia, però viene fatto tutto in sicurezza, perché il numero di spettatori è sempre quella, però il problema è questo, che far fare a Mario Di Miccoli gli abbonamenti alle gradinate significa portare più linfa economica alla società che potrà… Significa anche, sindaco, perché è importante, alleggerire il carico di presenze in tribuna e in curva. In curva soprattutto dove io… No, io dico soprattutto in tribuna dove vengono occupate le scale… È stato già risposto, sono d'accordo… Allora, va alleggerito grazie alla gradinata e poi diciamo alla vendita di posti in più. Io spero che Barletta quest'anno venga il campionato. Io cito, ma non ne voglio parlare, il dragaggio, lo dobbiamo, facciamo, evochiamo. La competenza non è comunale, là c'è l'autorità che si deve muovere. Sì, cito, ma non ne voglio parlare, il ponte sul Ciappetta Camaggio, cioè sono oramai luoghi della memoria dove, come per il ragazzolo, fine lavori mai. Fine lavori mai. Roberto, le opere pubbliche hanno una loro complessità. Sì, ma non ci sto più a questo perché, sindaco, io feci la battuta, ricordando che per fare il Colossio i Romani ci misero sette anni, va bene? Noi ci abbiamo messo sette anni per rifare lo stadio e senza neanche… Devevano rispettare le norme di sicurezza, le procedure di appalto, i progetti. E il tunnel della Manica che unisce Francia e Inghilterra, che diciamo è più recente, 43 chilometri, ci hanno messo 5 anni. Noi 43 metri su Via Andria, non penso che inglesi e francesi per fare quel tunnel in 5 anni non abbiano tenuto conto delle normative, degli imprevisti sotto il mare. Io devo difendere, non perché faccio parte, ma devo difendere le istituzioni che hanno proposto quell'opera, la devo difendere perché conosco le difficoltà. Per fortuna oggi le opere pubbliche dovrebbero essere realizzate in più breve tempo per un motivo molto semplice, perché quel maledetto codice degli appalti è stato rivisto, perché quello codice degli appalti era una tagliola per tutte quante le amministrazioni. Poi voglio anche ricordare una cosa, forse noi ce ne siamo dimenticati, abbiamo la memoria d'accordo, noi siamo stati due anni fermi, forse qualcuno ha dimenticato che è stato il Covid, che quel cantiere era proprio dentro, poi c'è stato un altro episodio altrettanto importante, di poco conto, la guerra in Ucraina che ha fatto schizzare i prezzi, l'irreperabilità delle materie prime, quindi ritorna sul progetto, ritrova i soldi, riapprova il progetto e intanto i costi aumentano, quindi io devo spezzare una lancia in favore delle istituzioni che vogliono, perché io chiedo… Sindaco, io le ho spezzate tutte le lancia, adesso lancia la spezzare, non ne ho più, noi non abbiamo idea di quando ci sarà chiuso quel cantiere. Faccio una domanda, faccio una domanda in generale, chi è questo sindaco che non vuole che le opere si realizzino? Ma io non sto facendo una colpa a te, io sto dicendo che è inammissibile, oltretutto è stata chiesta una commissione d'inchiesta dalle opposizioni, che secondo me per la tranquillità di tutto, una commissione d'inchiesta non deve essere vista come una cosa di nemici che devono, e per chiarire, per dare tutte le spiegazioni, per vedere se ci sono state in realtà, c'è stato dell'assismo, degli errori, però c'è niente di tutto questo. Ritengo anche che una commissione d'inchiesta debba essere presieduta da un consigliere d'opposizione, certo, la nonna, fatela, e serve anche, è stata, so che diciamo, siccome so che c'era stata una precedente incontro, le schermaglie e le scaramucce politiche, però a me andava data, secondo me andava data l'opposizione, così è stato, e facessero una cosa serena, io mi auguro una cosa serena. Io ho detto alla Presidente che tutto il materiale a mia disposizione è messo a disposizione perché io da quella commissione, lo voglio dire, perdonatemi la presunzione, avrò soltanto la medaglia d'oro per tutto l'impegno che ho profuso perché si arrivasse ad una soluzione. Comunque, e avevano dato come data prevista a giugno, poi diciamo c'è stato un ulteriore rinvio. Adesso c'è questa notizia sulla quale io non ci metto la firma, perché ho lavorato per arrivare all'accordo tra le parti per quel famoso manufatto, lunedì scorso ho messo d'accordo, Telecom e Ener perché devono autorizzare Doronzo a fare i lavori, a mettere la condotta per i loro servizi, perché erano fermi, perché noi dobbiamo anche dipendere da altri enti. Potevano evitare però di dare, se c'erano tutte queste cose, dare delle date a capocchia, scusate. Sì, ma quello è stato io, c'è un documento scritto da parte di RFI, adesso non mi azzardo, però parlando con il direttore dei lavori, sembrerebbe che a settembre loro ci possano consegnare via Andria, mentre via Andria, via Andria, lato mare e lato mondo, mentre via Veneto, sui quali hanno fatto già molto, ce lo darebbero a dicembre, questo è quanto mi hanno riferito, poi non si dica che il sindaco ha promesso questo, questo è quanto io quotidianamente stolchizzo, si dice così, l'impresa e RFI. Naturalmente c'erano tanti altri punti, ma non abbiamo il tempo, devo chiudere, sindaco, non soltanto auspicando che tu, così come Bottaro, così come Angarano, perché si va avanti in tutti i comuni con giunte incomplete, con assessori che devono essere nominati, io auspico che l'accusa avvenga molto prima, perché spesso facciamo riferimento al fatto che il personale è poco, che c'è sovraccarico di lavoro, un'aggiunta completa significa anche dei carichi di lavoro per gli assessori inferiori rispetto a un accumulo di deleghe che porta l'amministrazione ad essere più performante, ma questa purtroppo è la situazione non soltanto di Barletta, ma di buona parte di tanti comuni. Posso rassicurare i cittadini di Barletta che l'amministrazione comunale sta lavorando allacremente per il bene comune? Sindaco, nel bene comune la cosa che viene lamentata e che ha raggiunto dei livelli di trascuratezza assolutamente inaccettabili è la situazione del verde pubblico. Io mi rendo conto che ci sono, è un'altra situazione comune ad altre città. Oggi ci sono degli incroci dove diventa difficile vedere perché è così alta l'erba che dalla macchina ti devi uscire sulla strada da Inva per vedere chi viene. Questo io non lo nego, è verissimo. Quindi su questo va fatto un piano? Assolutamente sì, siamo partiti in ritardo perché il primo luglio è partito il nuovo contratto con Barsa e al dottor Mangione è stato anche detto che laddove con la sua forza di organico non dovesse riuscire a curare il verde può tranquillamente andare all'esterno di Barsa e dare lavoro alle attività private. Vabbè, vuoi aggiungere qualcosa? No, grazie, volevo soltanto ringraziarti e augurarti una buona estate e colgo l'occasione per augurare una buona estate a tutti i cittadini di Barletta. Va bene, grazie. Grazie a Mino Carnito per essere intervenuta nella nostra trasmissione, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito con la consuetà cortise attenzione e risentirci. Grazie a tutti.